Un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale questa mattina al termine di un violento scontro che si è verificato sulla strada provinciale 51 Sagittario tra Sulmona e Pratola Peligna nei pressi del ristorante, La Vigna, due, le auto coinvolte, una Fiat Kia e una Fiat Panda. Entrambe si sono scontrate all'altezza dell'incrocio e stato quasi in frontale. Una viaggiava da Pratola a Sulmona, l'altra esattamente in direzione opposta e stando ai rilievi eseguiti sul posto dai carabinieri della compagnia di Sulmona intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro alla base dell'incidente. Potrebbe esserci il malore di uno dei due conducenti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sulmona per la messa in sicurezza. Ingenti i danni alle auto con i frammenti di carrozzeria sparsi nella carreggiata stradale. L'episodio insomma non è passato inosservato. Le condizioni dei due conducenti trasportati in ospedale dall'ambulanza del 118 per gli accertamenti e le consulenze del caso non sarebbero tuttavia preoccupanti.